Forse non sono il fufungo più forte, ma tra i fungoletti sicuramente lo sono. No! Non lo sei! Sono io! No! Sono io! What's up! Ho aperto un vasetto! D'accordo, in fondo non all'impresa che pensavo. Scusate, dovrei aprire anche questo vasetto. Ci penso io! Solo Shytake riesce ad aprirli. Shytake e io. Sì! Ben ti sta! Qualcuno può aiutarmi a trasportare queste oste? Sono piuttosto pesanti! Scusate, ecco, ne ho altri due. Mi piacerebbe aiutarti, ma non credo di riuscirci. Vi ringrazio, lo fate sembrare facile. Troppo facile. Ho aperto entrambi i vasetti. Shytake! Però, quei due sono convinti di essere loro i più forti. Amico, potrei portarne il doppio di queste? Io, invece, il triplo. Mettetele qui, vi ringrazio. Oh! È stata una vera passeggiata. Sì, è un giochetto. Braccia di ferro. Amico, ti metto al tappeto. Sì! Le mie assi le lasciate per terra? Ecco, fatto! Le volevi insieme alle altre, vero? Oh, sì! Scusate, quella è una vera sfida oppure state solo facendo dei versi? È una vera sfida! In effetti, sono fermi in questa posizione da ore ormai. Amico, sto per vincere! Basta, siete pari. Ha ragione. Non è detto. Grazie! Ma a chi interessa sapere chi è il più forte? Per Shytake non è importante. E allora perché fa le corse estreme? Guarda, che secondo me lui fa delle corse nella natura. No, sono corse estreme. Va nella foresta a mostrare la sua forza e la sua potenza. Spacca le pietre e solleva i tronchi d'albero! Shytake è forte! Sì! Porte è bello!